buonasera benvenute benvenuti a questa lecture di scuola capitale sociale dal titolo ritrovare l'anima pratiche del buon vivere tra filosofia e spiritualità io sono marina sozzi vi porgo i saluti di scuola capitale sociale la scuola è nata nel 2020 a partire un po dalla consapevolezza che nel mondo complesso in cui viviamo che ci pone sempre delle nuove sfide abbiamo bisogno di strumenti concreti che ci permettano di affrontare in ogni ambito e che bisogna cercare questi strumenti concreti valorizzando l'esperienza di chi il cambiamento non solo ne parla ma lo incarna con il proprio fare questo è un po proprio il profilo della scuola nella scuola io mi occupo del filone che abbiamo voluto chiamare della cura e che punta a proporre riflessioni strumenti per vivere meglio non eludere il tema della morte e costruire una migliore idea della cura in ambito sanitario ma non soltanto questa lecture l'abbiamo organizzata in collaborazione con filo scuola di pratiche filosofiche che ha sede a milano e a roma e lascio però a laura campanello filosofa esperta in pratiche filosofiche che peraltro fa parte di questo comitato scientifico della scuola che si occupa della cura lascio a lei dicevo di presentare intanto meglio se stessa sia il nostro graditissimo ospite romano madera filosofo psicanalista fondatore dell'analisi biografica orientamente filosofico prego laura grazie marina buonasera tutte a tutti e sono ben felice di essere qui per scuola capitale sociale con la quale appunto come diceva marina collaboro per quel che riguarda il tema della cura ma soprattutto di avere ospite questa sera romano madera con cui ho la fortuna di collaborare da molto tempo proprio alla scuola filo e per la società di analisi biografica orientamento filosofico che abbiamo fondato ormai nel 2006 e ve lo presento brevemente poi vi anticipo un po' qual è il tema di questa serata romano madera è filosofo e psicanalista già professore ordinario di filosofia morale e di pratiche filosofiche presso l'università degli studi di milano bicocca è appunto tra i fondatori di filo e della società di analisi biografica orientamento filosofico fa parte delle associazioni di psicologia analitica aipa e del laboratorio analitico delle immagini e della redazione della rivista di psicologia analitica quello che mi interessa in particolare dire di romano madera perché poi ovviamente trovate le notizie anche sui social sul sito sul sito di filo è che ha scritto molti libri estremamente interessanti proprio sulla pratica filosofica che è qualcosa di cui parleremo con lui questa sera a partire da questo titolo che è ritrovare l'anima pratiche del buon vivere tra filosofia e spiritualità allora non mi dilungo troppo e vado a dare la parola proprio a romano madera partendo se romano ti va bene da la canzone di pino daniele che abbiamo ascoltato una canzone che ho scelto perché è stata d'ispirazione per il mio libro uscito da poco che si intitola appunto ritrovare l'anima ma perché a un certo punto pino daniele come forse solo alcuni bravissimi cantautori riescono a fare dice in maniera molto chiara una cosa che forse appunto come praticanti filosofi e poi spiegheremo cosa significa ci riguarda da vicino lui dice in questa vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che c'è intorno all'anima possiamo partire da qui anche forse dalla parola sopportare sì intanto grazie per questo invito e quindi per l'invito ma per l'invito a parlare di una cosa che mi sta molto a cuore come ovviamente sta molto a cuore a laura come sta molto a cuore i nostri amici amiche di filo e di tanti altri e fortunatamente che c'è ancora qualcuno che si interessa di queste cose e perché sul perché veniamo alla domanda veniamo alla domanda e dobbiamo fare un po un piccolo giro nel piccolo giro per arrivare a questa questione del sopportare ma no ci arriviamo subito c'è un modo con quale io dico la mia sulla questione che è una questione capitale della filosofia ma io penso che sia capitale della vita ovviamente e solo per questo è interessante e che è la noi diciamo è per esempio orientamento filosofico la gente dice ma che cavolo è questo orientamento filosofico cosa vuol dire e la nostra risposta in genere è piuttosto semplice è la ricerca di senso senso anche qua è complicato e c'è la filosofia del linguaggio e quelle le teorie della linguistica e compagnia eccetera no per noi non è che non siano cose importantissime ma noi lo prendiamo nel suo nel suo significato più semplice senso cosa vuol dire senso è l'orientamento esattamente come noi diciamo ah prendo questo no non posso prendere questa via perché è senso unico no senso orientamento verso dove si va da dove si va via allora la ricerca di senso è caratteristica degli umani se ci pensate un attimo un gattino per limitarsi agli animali che conosciamo ma un piccolo di cane eccetera eccetera tutto sommato certo che imparano delle cose nei primi giorni di vita nei primi mesi eccetera però tutto sommato sanno che cosa fa gli umani non è così non è così ma non in un senso soltanto negativo non è così perché la nostra storia biologica culturale eccetera ci ha spalancato abbiamo costruito il mondo nel quale viviamo e però naturalmente questo vuol dire che è difficile capire dove andare perché non ci sorregge una scelta diciamo così già preordinata istintuale potremmo dire e invece bisogna scegliere allora questa cosa diventa complicata come sono complicate le nostre le nostre e allora arriviamo a sopportare subito la mia risposta in generale è bisogna cercare un senso ma quale senso un senso che ci aiuti poi gli potete mettere se a voi convincono i nomi che volete i nomi di filosofie di ideologie di religioni di impegni non religiosi come mi pare però una ricerca di senso quali che siano i nomi che ci aiuti che ci ci consenta di benedire quando c'è da benedire si spera che ci sia tante volte da benedire ma ci sono anche molte cose nella vita e è inutile far finta che non ci siano anzi peggiorare cose un senso che ci aiuti che ci consenta di benedire la vita di sopportare la vita e mi ricordo una volta una discussione con un con un amico uno di noi uno di filo che diceva sì ma dai ma perché dici sempre questa cosa per sopportare non ti sembra un po' pessimista un po' faticosa invece ho già sentito nella introduzione di marina sozzi questa questa idea che questa scuola appunto parla anche della morte quindi parla anche della virgolette negativo del difficile no da sopportare altrimenti non è qualcosa che veramente tocca la nostra vita sì saranno delle belle idee delle delle però rimangono delle famose allora tutto quello che è un eccesso di idealizzazione e non è detto tante filosofie forse hanno anche eccessi di idealizzazione mi sembra che dal punto di vista di una filosofia come modo di vivere ebbe 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 c'è qualcosa che non funziona dentro bisogna riuscire a capire qual è la nostra se siamo in grado o no di affrontare il negativo inevitabile e questo allora questa fatto che questa canzone lo dica così è una è una questione che ci riporta appunto la questione del senso e alla questione del sopportare e alla questione della vita come intero ecco questo mi permetto di fermarti nel senso che mi sembra interessante che ci stiamo avvicinando a una delle parti che compongono anche il titolo di questa serata che è il buon vivere tu hai nominato la morte hai nominato le parti anche un po' faticose hai nominato appunto sopportare non perché il benedire non sia difficile anzi a volte purtroppo ci dimentichiamo di farlo però ovviamente sopportare porta con sé appunto l'idea di una grande fatica di una grande complessità ma se noi la vediamo in questo modo e quindi l'idea di vedere l'intero della vita che cosa possiamo intendere per buona vita perché poi c'è anche un po' questa idea sempre nominata della felicità che allora diventa un argomento ancor più complicato è la buona vita e intanto la buona vita deve essere appunto la vita e tu hai detto e ridetto lo si intero nell'intero e questo è propriamente l'aspetto filosofico perché dice filosofico ho detto prima la ricerca di senso poi però c'è la ricerca di senso come allora come questo diceva gli antichi greci per esempio secondo uno sguardo che è uno sguardo secondo il tutto ora è evidente la prima obiezione che secondo il tutto secondo il tutto non si può vedere niente secondo il tutto no perché la nostra la nostra visuale è fortissimamente limitata è limitata alla nostra ovviamente alla la nostra biografia mai limitata alla biografia sta nella storia alla nostra storia la storia è influenzata dalle culture eccetera eccetera naturalmente dal nostro genere dalle nostre credenze insomma da tantissime cose ma non è che noi vediamo tutto ma uno sguardo secondo il tutto cioè semplicemente che cerca di tenere insieme tante cose che in realtà noi non possiamo disgiungere e la prima cosa della buona vita è proprio questo e ma cerca di vederle nell'insieme perché se non le vede nell'insieme rischi tantissimo prima si diceva c'è stata sempre l'introduzione un accenno alla medicina no ecco per esempio è diventata anche stramoda no l'approccio olistico diventa olistico quello vuol dire olistico vuol dire di nuovo secondo il tutto e attenzione che questo olistico e nello stesso tempo il la considerazione della storia particolare dell'individuo vanno insieme quel tutto che è visto e che nelle condizioni di quell'individuo e questo è molto importante per esempio diciamo un esempio banalissimo no la medicina anche nelle ricerche eccetera eccetera è stata una medicina oggi si sa lo si dice lo accettano tutti è stata una medicina che ha curato tutti come se tutti fossero maschi fondamentalmente non se questa qui è una delle cose più più generali eccetera no e naturalmente oggi si dà perché nel proprio tempo soprattutto in tanti paesi questa storia è fortunatamente un po cambiata eccetera eccetera e da qui si sta procedendo no anche le ricerche in genetica sono attenzione bene non solo maschi femmine vecchi giovani bambini e compagnia ma anche proprio quell'individuo ecco però pensiamo anche la parola individuo cioè qualcosa che non è diviso qualcosa che non è e pensiamo alla nostra vita il buon vivere è il buon vivere e mettere insieme queste cose perché vogliamo dire che non possiamo pensare soltanto per esempio non possiamo pensare soltanto anche se è importantissimo anche se è decisivo al lavoro perché il lavoro va insieme per esempio col fatto cose super banali di essere in buona salute allora non è detto che se io mi curo soltanto del lavoro ma non mi curo della salute eccetera e poi il lavoro la salute per fare che se sono da solo e disperato e allora forse invece ho bisogno di relazioni allora dovrò curare le relazioni allora dovrò curare i sentimenti dovrò dare spazio innanzitutto a relazioni sentimenti e quindi capacità di creare altra vita oppure di curarmi di altra vita eccetera eccetera e questo via via e naturalmente tutto ciò ha bisogno e arriviamo a un altro punto non soltanto ogni specifico aspetto della nostra vita bisogno di esercitarsi questo è ovvio è ovvio perché non c'è solo l'esercizio per fare sport l'esercizio per esempio fisico per stare in buona salute per crescere bene per non invecchiare malamente e troppo presto no e quindi ma non è solo questo l'esercizio già fisico una volta si diceva aiuta a formare il carattere e poi dopo no questo però un aspetto sensato c'è perché anche la fatica dice ivano gamendi che è un mio amico ma non solo è anche compagno di trekking eccetera che c'è il pathos della fatica e ha ragione perché certe volte il fatto di far fatica e di superare la fatica ti dà un senso forte dell'esistenza che insomma non è la stessa cosa ma in certo in certo modo è paragonabile a quel senso pieno dell'esistenza che che so si può provare quando si fa l'amore se 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 l'amore viene bene se la relazione può fare eccetera quindi l'idea che questo esercizio che va da questo naturalmente anche all'esercizio intellettuale ho sentito nella canzone ma che ovvio che noi non possiamo quando parliamo della dell'anima possiamo parlare dell'anima magari differenziala dallo spirito o no adesso si può vedere ma insomma forse anche lì intendiamo dire qualche cosa che ha a che fare con una interiorità particolare che è data dalla nostra vita dalla nostra biografia eccetera ma che aperta aperta in diverse direzioni non soltanto la direzione del cervello ma anche la direzione del cuore ma anche la direzione del corpo perché anima il corpo la divisione eccetera però attenzione anima come chiarissimo della parola animale che cosa vuol dire vuol dire principio vitale allora la cura del principio vitale è la cura della vita nel suo complesso e nella sua interazione e vale però in ogni momento non soltanto quando siamo in difficoltà o abbiamo una malattia o cose di questo genere e l'unilateralità in generale e ovviamente in particolarissimo nelle nostre esistenze personali e l'unilateralità è una sorta di malattia è una sorta di malattia che vuol dire banalmente tra l'altro che ci sono delle capacità dell'umano che non vengono coltivate attenzione questo ci tengo scusa ti interrompo ma proprio perché secondo me è un tema importante su cui mi piace che entriamo in particolar modo un po perché per come ci hai presentato tu la buona vita è evidente che ha a che fare con una non frammentazione né nella propria interiorità né nella relazione con le dimensioni che compongono la nostra vita e quindi per questo la filosofia come stile di vita e quindi un tentativo di costruire appunto uno stile anche quotidiano che ci porti a non essere così schizofrenici o frammentati o appunto non integrati e come appunto sia importante tutto questo tema che tu stavi iniziando a presentare proprio relativo alle pratiche all'esercizio che come tu dici spesso deve portare non solo a un'integrazione ma una conversione hai voglia di dirci qualcosa di più specifico sugli esercizi filosofici proprio come pratica come abitudine per le varie dimensioni della nostra vita? E certo perché filosofia come modo di vivere senza gli esercizi è una chiacchiera una chiacchiera che va bene magari speriamo anche diventa anche un po' più di moda ma rimane una chiacchiera e lo stile di vita non è semplicemente il modo di sentire la vita è proprio il modo di praticarla e perché? Di nuovo ritorniamo a prima perché questo sguardo secondo il tutto questo sentire e pensare in quel modo lì per quello che ci riesce non può nascerci e non può mantenersi da sé allora ci sono una parte di esercizi della filosofia antica che hanno a che fare diciamo così con il proprio essere interiore col proprio comportamento con in qualche modo l'analisi l'analisi e la possibilità di modificare il proprio comportamento come una specie di bilancio no quello che gli antichi chiamavano esame di coscienza e che non è male e l'altro che certo poi può prendere o ha preso in certi casi delle figure estreme eccetera no ma la scetica scese in greco vuol dire esercizio la scetica è un po' quello che dicevamo prima non è che tutte le fatiche anzi devono essere viste malamente imparare a far fatica imparare a far fatica per degli scopi essere capaci di graduare la fatica a parte che è una cosa che per esempio se fatta bene ma di solito non è fatta male tutti i ragazzini e le ragazzine imparano facendo sport e anche qua non è una cosa così nuova perché l'antica filosofia greca era fatta nei ginnasi ginnasi ma il ginnasi vuol dire la ginnastica allora e la ginnastica del corpo è fondamentale certo perché senza senza la capacità di stare nel proprio corpo di sentire il proprio corpo figurarsi se siamo capaci di sentire gli altri e di sentire e di sentire il mondo e poi questi altri esercizi che sono per esempio l'espansione nel cosmo o guardare il mondo dall'alto come se fossimo in aereo allora come se fossimo sulle montagne che significa anche la capacità di mettersi di capirsi in una relazione questo semplicemente prendere atto della realtà ma capite bene che chi non prende atto della realtà cioè di essere una parte di un insieme molto più grande si spacca la testa in un modo o nell'altro e allora queste sono anche cose che rendono in qualche modo il buon vivere è una vita meno sciocca e quindi in realtà anche meno stupidamente pericolosa e guardare appunto dall'alto significa certo relativizzare l'io che può anche essere un esercizio farebbe tanto bene al nostro mondo ma in ogni caso in ogni caso può anche essere un po doloroso ma è un bel relativizzarsi perché è un relativizzarsi che ti fa rendere conto c'è un altro esercizio che è l'espansione nel cosmo che tu sei parte di una cosa che è infinitamente più grande di te e pensate questo pensiero e questo sentimento come invece con sola alla lettera cosa vuol dire con sola vuol dire che il solo sta con che solo non si sente più solo che solo si sente qualcosa di più ampio che è che nelle sue relazioni più vicine ma anche nelle sue relazioni più montane e tra l'altro questa cosa è anche molto in linea con una presa d'atto di quello che è la nostra contemporaneità non c'è mai stata nella storia umana con tutti i suoi problemi ma anche con tutte le sue possibili aperture non c'è mai stata nella storia umana un momento nel quale tutti gli umani sono confrontati con il fatto che tutti dipendono da tutto questo rende ancora e sempre più stupida il conflitto distruttivo la guerra e rende invece sempre più auspicabile la cooperazione e la solidarietà tanto più importante quanto più estesa e non solo perché siamo buoni e non solo perché siamo buoni ma per esempio perché riconosciamo la realtà dei fatti e anche qua la filosofia forse nel suo sforzo non ha importanza poi come lo declina eccetera come lo declinano le diverse posizioni filosofiche ma nel suo sforzo di prendere atto della realtà dei fatti che ci condizionano e agire dentro questa realtà dei fatti tenendo conto appunto che c'è qualcosa in noi che percepisce sente a dei sentimenti sentimenti vuol dire anche quello che è bene e quello che è male è capace di intelligere cioè di leggere dentro le cose di non accontentarsi soltanto della come dire delle apparenze esterne e di mettere insieme tutte queste cose l'anima no l'anima e lo spirito che non solo mette insieme queste cose ma che attraversa anima corpo mondo eccetera 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 e in qualche modo ci suggerisce ci ci può ispirare una direzione appunto un senso del di questa totalità dentro la quale noi viviamo grazie romano adesso facciamo solo una piccolissima sosta poi riprendiamo su questi argomenti e torniamo anche su alcune cose molto belle che tu hai scritto per esempio mentre parlavi mi facevi pensare alla mistica selvaggia che trovo una descrizione bellissima che trovo una descrizione bellissima di alcune esperienze che mi hai fatto venire in mente quando descrivevi l'esercizio dell'espansione dell'io nel cosmo e di queste esperienze e dopo appunto vorrei tornarci però adesso chiedo a Marco se mi aiuta dalla regia come si dice perché uno degli aspetti per noi importanti anche questa sera con la scuola capitale sociale è promuovere questo corso che sarà a mia cura sul ricominciare e rinascere la ricerca di senso e l'arte di vivere l'idea è quella che questo corso possa in quattro incontri da due ore e mezza ciascuno tessere insieme quello che stiamo un po' dicendo proprio come approccio teorico di lettura agli eventi che riguardano noi e la nostra esistenza ma anche esercizi esercizi che saranno individuali fondamentalmente in questo caso ma che portino a quella che è una conoscenza di sé fondamentalmente da cui si parte nel praticare della filosofia ma usando una frase che Romano Madera cita spesso e che io ho volentieri mutuato è una frase di Martin Buber che dice noi dobbiamo iniziare da noi ma non finire a noi quindi con questa possibilità di vivere appunto e ricominciare e rinascere a cui siamo destinati per certi versi mi viene da dire condannati perché non possiamo farne a meno di dover ricominciare più volte ma anche a cui siamo per fortuna capaci di dare vita perché noi siamo capaci per fortuna di dare vita al nuovo quindi lavoreremo su questi aspetti in particolare attraverso il tema del ricominciare tutti i dettagli eccetera li trovate Marco li sta mettendo gentilmente sulla chat e comunque li trovate sulla scuola capitale sociale però ripartirei intanto se hai voglia Romano due parole sulla mistica selvaggia questa esperienza che tu descrivi in maniera molto bella in uno dei tuoi tanti libri che è lo splendore trascurato del mondo dove questa mistica quotidiana che noi possiamo vivere ci apre alla dimensione di una spiritualità mi viene da chiamarla molto concreta molto appunto come dici tu quotidiana ma anche molto possibile e molto necessaria che cos'è questa mistica selvaggia e questa spiritualità di cui andiamo parlando parlando appunto anche di filosofia come stile di vita in qualche modo intanto mistica selvaggia è un modo con cui l'ha chiamata questo grande ricercatore che è Hulen che ha scritto un libro su quello da cui io poi parto per fare una cosa ma selvaggia perché perché già da allora c'erano un sacco di lui raccoglie alcune testimonianze di persone che non hanno non arrivano a poi diciamo un po' questa parola mistica che non arrivano a questo ecco sentimento di espansione nel cosmo che non è propriamente questo ma si avvicina molto questo sentirsi insomma un po' uno col tutto che non arrivano a questo attraverso naturalmente delle preparazioni specifiche delle vie religiose precise eccetera eccetera ma ci arrivano addirittura e qui ci sono un'infinità di testimonianze della nostra epoca per vie del tutto casuali dopo c'è anche il tema di quelle artificiali però attenzione bene perché in ogni caso anche anche quelle tradizionali sono una sorta di esercizi quelle che per virgolette gli esercizi ascetici durissimi dormire di meno le veglie l'orazione ma di tigiano tutte queste robe qua che a noi si possono sembrare pure strane però che che funzione hanno la funzione della avevano e hanno la funzione della de automatizzazione dell'esperienza attenzione perché noi ma non è che va male l'automatizzazione perché se non ci fosse un po' di cose automatiche non vivremo non è che tutte le volte io mi rimparo a mangiare con cucchiaino perché se no non vivo allora benissimo però attenzione l'altro aspetto che io automatizzando tutto automatizzando automatizza anche il fatto che quella cosa quella cosa lì quell'altra cosa quella cosa lì e vivo no è vivo dentro questa esperienza del già saputo e delle cose che non hanno relazione ma c'è invece una realtà gigantesca in cui tutto ha relazione con tutto e io sono parte del tutto e questo ci si può arrivare anche con la scienza ci sono pagine bellissime di Einstein di Bohr eccetera no di questa di questa la scienza stessa apre non chiude apre a un mistero ulteriore e cioè ci fa vedere quanto il mistero sia più grande di quello che vogliamo e però noi possiamo avere non capiamo bene che cosa è come quando guardiamo un cielo stellato e magari non so un giorno perché siamo innamorati l'altro giorno perché siamo più contenti l'altro giorno magari perché siamo anche tristi ma sentiamo questa tristezza in un modo vivo e ci sentiamo parte di tutto questo e questo è anche di nuovo una grande consolazione non siamo più soli siamo una parte dove vive dove pulsa no il cosmo interno e questa è un'esperienza di beatitudine ecco quindi il selvaggio sta in questo che non è soltanto quella organizzata strutturata per carità benissimo ma che può essere un'esperienza comune e lo è in realtà lo è banalissimamente che adesso non possiamo stare a rifare le cose ma tutto il discorso ma persino per esempio che era assolutamente contrario questo non piaceva per niente questa roba qua ma Freud dice ma c'è solo la pazzia dell'innamoramento in cui due pensano di essere una cosa sola però non è solo nel momento dell'innamoramento forse il grande Freud per esempio aveva tutto questo interesse per la sessualità beh si è scordato qualcosa di fondo della sessualità che non è solo il momento dell'innamoramento insomma quando va bene ci sono dei momenti anche nella sessualità in cui ci si sente uno o l'altro o l'altra e beh e questa cosa qua ha a che fare con un certo sentimento se la togliamo da tutti questi tre concetti secondo me ha a che fare con una certa mistica che è parte della nostra possibile della nostra reale esperienza e credo che questo e qua finisco guardate un po quello che ha reintroduce per noi l'idea della filosofia come modo di vivere ripartendo dai greci e dai romani cioè Pierre Hadot nelle prime pagine della sua intervista biografica ci sono due pagine fondamentali dove lui dice come è diventato filosofo quando non sapeva neanche cosa volesse dire non aveva neanche sentito la parola perché ce l'aveva a 13 anni 12 anni e racconta che cosa e racconta la sua prima e dice lì lì ho imparato a essere filosofo non lo sapevo cosa voleva dire essere filosofo e qual è l'esperienza l'esperienza è cielo stellato e di me io dentro questa immensità no e sentirsi parte di tutto e naturalmente anche questa piccolezza allora l'idea della qua l'idea della l'idea della conversione che questa è una parola accia perché soltanto è una parola bellissima in realtà che vuol dire tra l'altro cambiare strada e se la ricerca di senso è la cosa che ci caratterizza come gli umani beh spesso bisogna cambiare strada perché certe volte le strade sono chiuse non si va da nessuna parte oppure ci sia zoppa e allora è meglio cambiare strada convertirsi cambiare strada allora questa conversione ha a che fare con il cambiare il proprio modo di vivere e con questa idea che cambiamo delle parti ma con l'idea anche che cambiamo il modo di stare al mondo complessivamente di sentire il mondo e quindi comporta una tra l'altro una vivificazione delle esperienze che facciamo dalle più semplici dalle più complesse si è in questa vivificazione come la chiami tu in questa conversione in questo cambiare strada noi come dicevo prima non siamo sempre nella possibilità di scegliere che cosa cambiare quando cambiare perché l'esistenza cambia nonostante i nostri progetti nonostante il nostro desiderio di controllo nonostante le nostre appunto pianificazioni e quindi forse anche la conversione è prima di tutto quello di uno sguardo sulla vita imparare anche a esercitarsi ad accettare che la vita è mutevole di per sé e che noi a volte ricominciamo per scelta ma tante volte ricominciamo e dobbiamo rimetterci al mondo per necessità come quali possibilità in parte pratica in parte di visione appunto dell'esistenza pensi che possano aiutarci a accettare appunto il fatto che l'esistenza è mutevole di per sé ma che noi siamo capaci se lo vogliamo di rimetterci ogni volta al mondo beh la prima cosa intanto appunto è questo sentirsi e anche pensarsi perché serve anche il cervello pensarsi come parte del tutto e quindi attenzione a ridurre poi le cose sulla mia esclusiva misura come qualcosa di staccato dal tutto e questo mi può aprire a diverse possibilità persino le diverse possibilità anche quando si tratta di cose apparentemente solo negative c'è un esempio più classico per esempio si perdono delle capacità delle facoltà si invecchia si muore eccetera eccetera è tutto lì e non sto pensando la sopravvivenza dopo la morte per esempio no non è vero perché comunque qualsiasi cosa abbiamo fatto bene o male questo rimane negli altri rimane in quelli che abbiamo conosciuto quindi qua c'è una forma di sopravvivenza puramente virgolette umana e di cui bisogna tener conto che significa che neanche possiamo essere veramente giudici di tutto quello che abbiamo fatto poi è una cosa sulla quale Laura ha scritto ha scritto un bellissimo libro eccetera poi ho visto che c'è anche nel tema questo prossimo pezzo della scuola questa idea del rinascere dove anche lì ci sono tanti modi di rinascere ma intanto dobbiamo accettare il primo fatto che la rinascita non è una cosa che scegliamo è una cosa che continua per esempio nel nostro corpo continuamente perché c'è un continuo rinnovamento per esempio cellulare poi a un certo punto finisce ma è quello che ci fa continuare a vivere è di nuovo una sorta di continua rinascita cellulare e poi l'età della vita noi siamo come eravamo a tre anni come eravamo a dodici no allora dobbiamo riconoscere che noi siamo già rinati diverse volte poi gli incontri siamo gli stessi prima di incontrare certe persone dopo no ci sono incontri che ci hanno cambiato completamente l'esistenza e allora anche quello vuol dire che continuamente rinasciamo per esempio appunto l'amore ma anche il lavoro in certi casi nel bene e nel male naturalmente le forme di espressione quello che abbiamo detto prima la rinascita come conversione e poi naturalmente sulla quale si basano anche tantissimi riti religiosi prendiamo il battesimo che dice si nasce la seconda volta dice una cosa astratta assurda lo possiamo capire anche culturalmente no lo possiamo capire anche culturalmente senza per esempio essere cristiani se lo siamo ancora di più e cioè è la possibilità di una diversa vita ma la possibilità di una diversa vita è già iscritta nella stessa vita umana perché perché il riconoscimento del piccolo che negli animali ci sono delle eccezioni dei momenti particolari difficili avviene ovviamente se nasce un capriolo la madre si occuperà il branco si occuperanno del piccolo capriolo eccetera eccetera per gli umani non è così io faccio sempre l'esempio del diritto romano non solo perché noi qualcosa di Roma conosciamo ma perché nel mondo antico sicuramente il diritto almeno era una delle costruzioni più importanti e forse più complesse e forse anche più intelligenti dell'epoca bene il diritto romano però prevedeva che quando un figlio nasceva poteva essere o no alzato dal padre se lo alzava viveva e era suo figlio se non lo alzava però poteva diventare schiavo poteva essere ucciso poteva essere venduto questo per dire cosa che il riconoscimento fa parte addirittura della sostanza dell'essere umano e quindi il nuovo ritorno anche la cosa del battesimo fatto che ci sia una seconda nascita è prima di tutto un fatto noi non possiamo essere umani senza nascere due volte e poi nasceremo tante altre volte e poi si può anche rinascere dallo spirito come diceva Gesù che diceva però lo spirito attenzione soffia ma non si sa da dove viene dove va adesso non possiamo fare l'esegesi e poi non so se ne sarei realmente capace ma prendiamolo da un punto di vista di come lo possono capire tutti cristiani e non cristiani lo spirito soffia dove vuole perché lo spirito come diceva prima Laura citando Boomer cominciare da sé ma non finire con sé grande pensatore ebreo no ma non finire con sé vuol dire che cosa vuol dire appunto che lo spirito non appartiene a un singolo lo spirito appartiene alle comunità all'intreccio di comunità lo spirito appartiene al mondo alla realtà stessa e quindi noi non ne siamo padroni e dobbiamo soltanto avere gli occhi e le orecchie aperti per capire se ci arriva lo spirito cioè qualcosa che mette un po in sé soffia e quindi è capace torniamo all'inizio è capace di essere pervasivo del tutto e questo intanto grazie perché ricordo che scusate se qualcuno vuole fare domande potete scriverle in chat perché possiamo prenderci tranquillamente il prossimo quarto d'ora perché il professor Romano Madera possa rispondere però interessante anche tutta questa questione appunto come se allo spirito bisogna in qualche modo aprirsi bisogna mettersi in ascolto e non soltanto incaponirsi nel cercare qualche cosa che a volte arriva da fonti o da esperienze che non sono esattamente quelle da cui ci immaginiamo sarebbe arrivato e forse questo anche poi a che fare con ritrovare l'anima con questa capacità di stare in quel afflato e movimento vitale come dicevi tu prima che in alcuni momenti in cui la vita ci ferisce profondamente appunto abbiamo bisogno di ricominciare ma non sappiamo da che parte farlo recuperare quella dimensione vitale darle spazio senza essere troppo preoccupati solo dal funzionare è quello che ci permette di ritare piano piano una forma e una direzione alla nostra vita c'è una domanda di una persona che chiede spesso si crea confusione tra anima e spirito si potrebbe caratterizzare la differenza e connessioni immagino che chieda che differenza c'è se è possibile dirlo tra anima e spirito e se ci sono appunto delle differenze delle connessioni tra le due dimensioni e poi qualcun altro te ne dico già anche un'altra così poi valuti come muoverti dice penso di più che bisognerebbe cercare no penso che più che cercarlo il senso bisognerebbe trovarlo i sogni intendo quelli notturni possono essere un tramite per questo e per il cambiamento iniziamo con queste due allora su anima e spirito è chiaro che dipende dalle posizioni che si hanno la mia e ci sono certi che dicono no 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 l'anima è questo lo spirito è quello eccetera beh stasera siete stati sfortunati eh io invece penso che per dire che cos'è l'anima io posso anche dire che cosa penso io ma eh ci sono ogni realtà eh concezione del mondo e quindi innanzitutto le diverse religioni spiritualità eccetera ogni filosofia ha diverse idee su che cosa è l'anima e lo spirito alcune le congiungono altre non le congiungono quindi cerchiamo di essere io suggerirei un'attitudine un po più modesta e cioè cercare quali sono le differenze almeno alcune che conosciamo e poi invece una cosa per niente modesta però forse è modestissima addirittura e dire va bene ma io al di là di tutte queste cose penserei che allora per quello detto questo è che per me che non vale assolutamente niente è un'idea tra le tante altre come ovviamente tutto quello in realtà in parte che ho detto altri sono idee di altri e quindi va bene però che accetto mentre l'anima ha una caratterizzazione e quindi è molto diversa da tante cose della filosofia antica della filosofia eccetera eccetera anche l'anima ha qualcosa che ha a che fare più con quello che noi oggi chiameremo psiche questo naturalmente qua io risento dell'influenza che è stata parte della mia vita per esempio della psicanalisi per esempio di lunghe eccetera non è che sposo tutta questa cosa però voglio dire è un cerco di identificare la dietro un modo in cui possiamo dire la sensibilità dell'interiorità e naturalmente è lo spirito vitale che è sensibile no vitale sensibile appunto anima animale sì mentre invece lo spirito io penso che siano le grandi correnti di concezioni e divisioni del mondo e che quindi sono qualcosa che non ha a che fare con me con un altro eccetera eccetera ma è qualcosa che ha a che fare con intere comunità se non addirittura con l'universo però sullo spirito video vorrei citare per puro caso ce l'avevo qua davanti una una cosa bellissima di tic natan poi mi taccio in un libro che si chiama la luce del dharma dialogo tra cristianesimo e buddismo lui ne ha scritto un grande maestro monaco vietnamita adesso morto impegnato politicamente socialmente una specie di grande santo per me comunque per tanti altri e dice e sta parlando dello spirito santo e dice per me lo spirito santo è fede presenza mentale amore lo spirito santo è già dentro di noi se siamo capaci di sentirlo e di aiutarlo manifestarsi in noi lo possiamo coltivare così come coltiviamo la presenza mentale essere battezzati questo è un monaco buddista essere battezzati significa avere l'opportunità di riconoscere che questo spirito e questa energia sono già in te chi riceve il battesimo nascerà da quell'acqua e dello spirito santo lo scopo di questo rituale quindi la capacità anche di entrare negli rituali che adesso è il battesimo perché lo conosciamo ma generale dei rituali delle diverse religioni si da bisogna saper centrare e aiutare la persona ad entrare in contatto con il semi dello spirito che è già dentro di lei e nascere alla vita spirituale e nascere a questa vita spirituale che cosa che cosa vuol dire e lui dice usando le figure del cristianesimo è nato un bambino due punti gesù nasce ogni volta che entra in contatto con lo spirito che dentro di te e lo scorso lo stesso discorso vale per chiunque pratica il dharma ogni cioè l'insegnamento del dharma ogni volta che entra in contatto con il seme della consapevolezza e questo si manifesta dentro di te la tua vita ancora possibile se sei distratto il corpo e la mente non sono insieme non sono insieme quindi lo spirito è quello che tiene insieme se sei perso nel futuro e non solo tiene insieme il corpo e la mente tua ma tiene insieme il corpo e la mente del mondo con te e di delle possibilità che esistono anche di sentimento e di intelligenza se sei perso nel futuro oppure nel passato non stai vivendo ma quando tocchi il semi della consapevolezza improvvisamente diventi vivo corpo e spirito insieme e nasci di nuovo Gesù nasce di nuovo il burda nasce di nuovo interessante molto molto anche ampio come movimento appunto rispetto a quello che intendiamo per spiritualità no c'era la domanda che ti facevo di prima appunto se il senso va cercato o in qualche modo trovato nel senso che arriva come la caverai brevemente e cioè dicendo ma se ci fosse va trovato e tanto io non lo cerco anche se c'è tanto inutile che ci sia per me no dunque lo devo cercare ma nello stesso tempo sarebbe non da trovare allora vorrebbe dire che io sono l'origine e la fine del senso peccato che questa sia una sciocchezza madornale perché io non mi sono inventato non mi sono creato non ho fatto la storia non ho fatto la natura sono una parte infinitesimale del tempo e dello spazio e quindi evidente che devo cercare un senso che posso trovare ma il fatto di cercarlo e trovarlo vuol dire che non è già bellepatto e io quando lo trovo lo trovo per come l'ho cercato per cosa ci ho messo dentro anche io e quindi è un senso che trovo più n questo più n è la mia particolarità e quindi è vero che c'è il tutto eccetera ma anche io che sono quasi niente sono una parte piccolissima subatomica di questo tutto ma significativa sì tra l'altro appunto c'erano anche altre domande che dicevano ma perché cercare per forza il senso della vita direi che hai risposto qualcuno parla della sofferenza e dice la sofferenza ci fa sentire insufficienti mancanti e invece si ha bisogno di sentirsi interi cambiare aggiungo io può essere utile per sentirsi un po più completi credo che tutto quello che abbiamo detto no la filosofia è proprio a questa caratteristica ricerca di senso ma di quale senso di un senso che si allarga che tende che cerca di guardare al di là del nostro piccolo specifico ma anche al di là del singolo sapere della singola tecnica importantissima ma hanno un sacco di legami come ciascuno appunto anche degli esempi semplicissimi che facevo prima ma che sa per per esperienza e dunque e dunque di nuovo mi pare che la questione stia nel fatto che noi mettiamo comunque qualcosa in quello che facciamo siamo appunto pochissimo ma nello stesso tempo possiamo dare un la nostra impronta al a quello che ci capita a quello che ci capita di vivere e siccome però appunto si dice no in questa domanda come dire ma non dobbiamo se ho capito bene troppo sottolineare soltanto le difficoltà sarebbe meglio invece avere una sorta di completezza meno drammatica se ho capito e beh il problema semplice è che ma la vita che ci è data è questa qua e dunque anche la completezza la felicità la contentezza e non possono essere astratte da tutto ciò e sarebbero molto molto debole se dipendessero esclusivamente da come mi sento io adesso in questo momento ma non perché ci sia qualcosa d'altro ma perché il come io mi sento adesso in questo momento è fatto da una storia che è una storia mia che è una storia del mio gruppo dal gruppo familiare al gruppo sociale alla cultura eccetera eccetera è solo dentro questo contesto che è la realtà e allora se la realtà è questa io devo accettare anche tutte le oscurità tutte le difficoltà che la vita mi presenta proprio perché tra l'altro in quel momento e anche in quei momenti ne sarò molto aiutato per cui non saranno in contraddizione tra così netta per cui ci sono dei momenti in cui sono contento e felice in quei momenti in cui sono disperato perché allora nel momento in cui sono disperato il momento in cui sono contento e felice se ne vanno e allora come farò a sostenere anche la disperazione al contrario se sono contento e felice e so che sono stato anche disperato e sono disperato la mia felicità e la mia capacità è più grande perché contiene anche il dolore e il dolore supremo e questo scusate ma ci sono simboli di tutto ciò vi possono piacere non vi possono piacere comunque fanno parte della vostra cultura tanto per per esempio rimanere lì beh per esempio la la storia dei vangeli la vita di gesù è esattamente tutto questo è esattamente la compresenza della gloria e della felicità con il dolore con l'abbandono con il disprezzo più oscuro che a una persona della sua epoca del suo credo dentro suo mondo potesse accadere le tiene insieme tutte e due e tenerle insieme tutte e due è profondamente umano sì quindi appunto non su un versante immediatamente religioso ma su un versante umano e quindi spirituale inteso come tutto di cui siamo fatti verso cui siamo orientati ecco ricordo ti ricordo solo ma perché mi sembrava interessante anche che una domanda conteneva anche la curiosità sul fatto che i sogni soprattutto quelli notturni potessero essere indicatori di senso visto che ci esercitiamo a filo anche col diario onirico mi sembrava interessante anche un po sottolineare questo aspetto beh certo questa è un continente intero quando il dico tutto dico tutto anche al di là appunto del modo tradizionale qui è stata non solo pensata la filosofia ma in cui sono pensate le scienze umane anche lino ma in generale le scienze generale sapere come se ci fossero delle strettoie delle dei divisori no ma i saperi dell'umano in realtà i saperi anche saperi della natura poi c'entrano con tutto ciò hanno almeno qualcosa che li unisce no e allora qua c'è tutta la storia nella nostra epoca beh insomma io lo faccio anche quello fa anche come lo fa anche laura come lo facciamo anche oltre che nella società analitica ma lo facciamo anche in sabbo nell'analisi biografico orientamento filosofico una delle caratteristiche è proprio il tener conto del registro notturno no ma perché se ci sono tanti motivi per cui altro che se i sogni non sono indicatori intanto sono indicatori di una cosa decisiva cioè ci sono tante cose che noi non abbiamo la forza di dirci quando siamo svegli eppure ogni tanto compaiono nei sogni e quindi questo fa parte della idea di andare verso non ci arriveremo mai ma andare verso una completezza no di sede l'esperienza eccetera quindi l'esperienza onirica è tanto importante quanto l'esperienza del giorno e le due cose vanno messe insieme e poi perché questo dico a partire da altri mie pensieri perché io penso che l'uomo sia fondamentalmente la storia e la cultura eccetera prodotta dall'immaginario altrimenti lo spiego anche credo abbastanza semplicemente guardate quello che avete addosso guardate come stiamo comunicando da posti diversi la tecnica la scienza eccetera abbiamo immaginato diversamente il mondo e l'abbiamo costruito allora come facciamo a privarci di uno dei momenti naturali quotidiani della nostra capacità di immaginare come sono i sogni naturalmente bisogna interrogarli perché di nuovo perché dobbiamo mettere insieme le cose non c'è il giorno senza la notte la notte senza il giorno almeno nella nostra prospettiva dico nostra perché perché io e laura per esempio siamo in una nostra prospettiva e allora facciamo parte di un'idea di un gruppo di una cosa allora nella nostra prospettiva queste cose non sono divisi vanno vanno messe insieme vanno e ci va preso insomma è anche un impegno ma in fondo è un impegno con noi stessi perché dobbiamo buttare via metà della nostra vita senza cavarne niente anche per la nostra vita di urla è un peccato come un grande spreco sciocco assolutamente poi anche conoscere un linguaggio diverso diventare interpreti di qualcosa che è molto più ampio e vitale di quello che è un linguaggio logico lineare razionale a cui siamo così avvezzi che neanche andiamo più a ricercare qualcosa di diverso salvo poi trovarci soffocati e alienati appunto in un unico binario quando invece abbiamo moltissimi binari grazie al cielo interessanti da frequentare c'era una domanda adesso in realtà il tempo sta stringendo però c'era una domanda che forse potremmo riassumere con la necessità di trascendenza cioè quello la necessità in qualche modo che qui si sottolinea di non fermarsi a una psicologia o noi potremmo dire una psicanalisi che si cura solo dell'individuo tu diresti del tuo ombelico ma esercitare la trascendenza verso una direzione che abbia più a che fare forse anche con la politica e col vivere sociale perché altrimenti tutte queste pratiche di cui andiamo parlando forse sono utili solo a metà o solo parzialmente è certissimamente e questo appunto lo sguardo secondo il tutto ma appunto l'idea degli degli stessi esercizi c'è tutta una una parte degli esercizi a cosa servono per esempio la filosofia antica dove era chiaro e diceva beh servono a trascendere a trascendere cosa vuol dire andare al di là molto semplicemente andare al di là di che cosa andare al di là della cerchia ristrettissima di te con te stesso perché perché il reale perché non è vero non esisti tu e te stesso e basta sei frutto di una storia sei frutto di una famiglia eccetera eccetera stai nel mondo e allora la trascendenza è verso ciò che esiste e ciò che fa parte di te di cui tu sei parte e quindi la trascendenza è verso la natura pensate bene anche che che razza di di sostegno questo darebbe anche a un certo modo di essere attenti all'ecologia per esempio trascendersi verso la natura e che però è semplicemente riconoscere la realtà dove stiamo dentro qua e trascendersi verso gli altri e lì ci sta tutto sia del fatto che noi siamo frutto appunto di una cultura di un'educazione eccetera sia siamo il frutto di una vita sociale e dunque il senso più grande più forte che ci costituisce intimamente nelle cose che pensiamo che sentiamo eccetera della in senso grande appunto il senso forte della politica della città della convico io lo tradurrei che è ovvio che non è la traduzione giusta ma io lo tradurrei con oggi con convivenza convivenza di tutti con tutti e con tutto e questo mi sembra un obiettivo e quindi una prassi che 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 deve essere curato perché noi siamo il frutto di queste prassi e per unire le due cose e unire le due cose date su l'organizzazione mondiale della sanità e cercate acqua acqua da bere e troverete dei dati spaventosi spaventosi su quanto tipo quali tipi di malattie quale parte del mondo viene distrutta dal fatto di non poter avere acqua potabile che razza di malattie vengono eccetera eccetera e allora uno si accorge che la roba che riguarda quasi un terzo dell'umanità con malattie di ogni genere poi lo confrontate è chiaro che sono discorsi anche un po così no uno dirà ideologici l'altro dirà propagandistici però secondo me sono anche reali e quindi e quanto invece noi spendiamo per le armi noi come mondo no e fate due conti e trovate a che punto purtroppo ancora noi siamo e quindi questo essere politici è perché appunto tra l'altro nel nostro mondo noi dipendiamo veramente vediamo in ogni forma e quindi è opportuno prenderne atto e questo è la dimensione di fondo della della trascendenza verso gli altri che non è solo ti voglio bene sono carino ma vuol dire concepire la propria esistenza proprio ruolo nel mondo la propria piccolissima microscopica appunto subatomica funzione però orientata sia un senso che va in una certa direzione con un senso che va in un'altra allora su questo purtroppo mi fermo anche se c'erano altre domande ma ovviamente poi la cosa diventa particolarmente lunga ricordo per anche per rispondere ad alcune domande sicuramente il testo sempre di romano madera la carta del senso dove trovate anche tutto quello che ha a che fare proprio con gli esercizi gli esercizi della filosofia antica ma anche gli esercizi di una filosofia che si rivivifica e si riattualizza per noi e per per il nostro mondo e poi visto che qualcuno faceva una domanda in questo senso il metodo biografico altro testo sempre di romano dove si va proprio a evidenziare come il metodo sia formativo lui dice sia come cura passa necessariamente da una una possibilità di vedere la persona nella sua storia nella sua biografia e poi appunto nella sua direzione nella sua ricerca di senso a cui siamo chiamati appunto uno perché non possiamo farne a meno e due perché dobbiamo in qualche modo interpretare la nostra ricerca del senso perché appunto non siamo il gattino che dicevi che ha già tutto scritto nel dna e non siamo neanche però più i filosofi antichi che avevano un'esemplarità da seguire noi abbiamo anche l'ulteriore difficoltà di scegliere quale via su quale via sapienziale su quale via spirituale su quale direzione e quindi indubbiamente le cose sono più per certi versi più complesse però abbiamo anche molti più strumenti sicuramente detto questo qualcuno scrive lo splendore trascurato del mondo è bellissimo concordo come tutti i libri di romano se posso dirlo l'incontro è stato registrato quindi lo troverete sul sito sul canale youtube della scuola capitale sociale e ricordo marco ha già messo tutte le istruzioni in chat per l'iscrizione al corso che sarà appunto sul tema del rinascere ricominciare trattato in questa modalità quindi teorica ma anche in particolare con degli esercizi con degli esercizi autobiografici ma anche esercizi meditativi e di altro tipo proprio per provare a praticare un po sia la cura di sé che la trascendenza a partire soprattutto da ciò che ci impone o ci chiede di affrontare una trasformazione io ringrazio tantissimo romano madera che ha accettato questo invito spero molto di ritrovarlo anche per la scuola capitale sociale se no ci ritrovate sicuramente anche a filo e alle iniziative che portiamo avanti sempre proprio in questo su questo solco qualcuno scrive io amo molto anche il nudo piacere di vivere concordo anzi forse è quello che amo più di tutti se posso aggiungere e auguro a tutti una buona serata ringrazio marco dell'organizzazione marina della rappresentanza della scuola dell'ospitalità e buona continuazione a tutti quanti